Ciao, sono Alceo FX, invadiamo vetere con questa nuova web radio, Alceo FX Radio, un super podcast intergalattico, io da Milano e dal pianeta Vene, Aguirre, più lontano di me, da Londra, per voi, John John, una super web radio podcast, come si dice? Isto è il Rock'n'Roll Cinema, vi aspettiamo!